Benvenuti a tutti, allora oggi abbiamo quest'altra sessione di domande e risposte, abbiamo le domande qui, allora cominciamo, andiamo, vi vedo eccitati, come posso fare a conoscere me stessa nel profondo e non dare importanza al giudizio degli altri? Tengo qui, sennò vola. Il giudizio degli altri è inevitabile, vivendo assieme ci sarà sempre qualcuno che ha qualcosa da dire e più in qualche modo possiamo avere un ruolo all'interno della società in cui viviamo e più giudizi verranno espressi, è inevitabile. Ho preso un libro in biblioteca e il nostro bibliotecario mi ha detto, è un libro che in parte è anche contestato e io gli ho risposto, si vede che ha avuto successo, perché se i libri non li hanno letti le persone neppure li contestano, poi magari ci saranno anche degli errori, però è proprio la natura di un qualcosa che viene letto, poi dopo essere in qualche modo letto, visto, ascoltato, viene in qualche modo giudicato. Questo perché ve lo dico? Perché possiamo provare a lavorare sull'evitare il giudizio altrui, ma la verità è che è inevitabile, possiamo provare anche a essere estremamente compiacenti nei confronti di tutti, poi però il risultato è che stiamo scomodi con noi stessi, che ci sentiamo potenzialmente frustrati. Allora l'unica vera via per non essere così sensibili al giudizio altrui è quella di sviluppare un senso di benessere sempre maggiore in noi stessi, facendo però non quello che ci pare, ma quello che rientra nella pratica spirituale, quello che rientra nel Dhamma. Ho prima usato pratica spirituale perché probabilmente non tutti siete gli scepoli del Buddha, magari semplicemente del simpatizzanti, quindi può essere che abbiate una pratica spirituale più ampia, più diversa e così via. Però ora chiarito questo io continuo a parlare di Dhamma, poi lo traducete secondo la vostra esperienza. Una pratica sempre più in linea con il Dhamma, perché a questo punto il metro di giudizio non è più cosa pensano gli altri, ma cosa pensa il Buddha, che può avere un valore molto differente. E appunto facendo in questo modo noi siamo aperti a metterci in discussione, non stiamo seguendo il famoso a modo mio, ma stiamo cercando di uniformarci al Dhamma e siamo aperti perché alcune delle cose che sono in noi saranno conformi, coerenti con il Dhamma, altre no. Siamo quindi disposti all'ascolto e a metterci in discussione. e scopriremo che talvolta il Dhamma può venire anche dall'esterno, cioè da altre persone che ci dicono, che ci danno dei suggerimenti e a questo punto quelle persone converrebbe ascoltarle. creiamo un senso di benessere sempre maggiore in noi stessi e quel senso di benessere che sia conforme al Dhamma. Ciò appunto non ci esonererà da avere dei giudizi, delle critiche, però saremmo magari in grado, sarà più facile per tutti noi rielaborare all'interno del nostro percorso di risveglio, cioè capire se quelle critiche sono in realtà non sono critiche ma sono consigli validi per aiutarci nella nostra ricerca spirituale e quindi quanto meno critiche costruttive oppure sono critiche che vengono semplicemente perché le persone non comprendono quello che a noi davvero preme. Considerate che qualsiasi cosa uno dica o faccia non subito si vedono gli effetti, date anche tempo a quello che abbiamo messo in moto di maturare e quindi portare pazienza a tutte le voci che potrebbero dire eh però, eh però, magari appunto dopo un po' possiamo ripresentarci con un sorriso senza, senza aggiungere la famosa frase che dicevi scusa? Lasciamo che, che gli altri possano riflettere su quello che, sul giudizio che avevano espresso. Un'altra cosa che scoprirete aiuta molto, e già era implicita in quello che stavo dicendo, è quando c'è qualcosa che veramente a noi preme. Per cui, che il nostro cuore è in quella storia, è in quelle, è in quella, ha un senso di direzione chiaro. Allora, a quel punto, eh, nonostante le voci che, che ci circondano, eh, noi tiriamo dritti. Talvolta, invece, siamo così confusi anche dai, dai giudizi altrui, perché in fin dei conti non sappiamo neanche noi che cosa effettivamente vogliamo. Sono, sono queste condizioni, teniamoli presenti in modo tale che, eh, possiamo essere sempre meno suscettibili, anche se aperti all'ascolto. Con un senso di benessere si sviluppa anche un'altra qualità, che è quella di reagire meglio alle, 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 alle critiche, ai giudizi degli altri. Per cui, nel caso, anche se le ricevessimo e non reputiamo che siano opportune, magari abbiamo anche una maggiore capacità di relazionarci e spiegare, e dare delle spiegazioni. Ci sono vari benefici, però, appunto, iniziamo a non affidare troppo la felicità, la nostra felicità all'esterno, ma sempre più quanto possibile all'interno, perché abbiamo il cuore in qualcosa che veramente ci preme, e speriamo che quel qualcosa che veramente ci preme abbia un valore come, appunto, lo può avere il Dhamma. Questo è risintetizzando tutto quello detto finora. Allora, andiamo oltre. Il biglietto è grossissimo, vediamo la domanda. Volevo sapere se conosci un monaco buddista che ha raggiunto l'illuminazione. A questa domanda non si dà risposta. Sono cose che… bravo quel monaco, se c'è. Però, appunto, non si lavora in questo modo. È lo stesso Buddha che ci dice che non dobbiamo lavorare in questo modo. Un monaco che qualora… un monaco, sì, un monaco, non una persona, un monaco, perché questa è una disciplina da monaci, che abbia raggiunto il risveglio nel caso lo confida solo ad altri monaci. In modo tale, non per ricevere il plauso, ma per verificare che quello che sta dicendo abbia un senso. È un'infrazione della disciplina monastica, andare in giro dicendo sono illuminato. Se poi dopo è anche una menzogna, è una menzogna consapevole e addirittura comporta l'esclusione dall'ordine monastico. Quindi il Buddha dava priorità assoluta all'insegnamento, all'insegnamento, in modo tale che non ci si confondesse nella… neanche nella devozione verso le persone, verso l'esterno. Lavorate affinché la vostra mente sia illuminata. La mente degli altri appartiene agli altri. Come si fa a conciliare la vita di tutti i giorni con gli stress che ne derivano? Lavoro, progresso materiale ed inutile ed una crescita spirituale, con una cerca spirituale, atta al raggiungimento nerdidvana, senza fare scelte estreme. No, la verità è che non si può conciliare. No, è inconciliabile. Siete ancora qua? Strano che uno non si è alzato dicendo e allora che ci facciamo? No, nel senso che non si può avere tutto dalla vita. E quello che è chiamato scelta estrema in realtà va fatta. E la scelta estrema è semplice, è mettere al centro della nostra vita appunto la pratica spirituale. Questa sembra una scelta estrema nell'ottica del fatto voglio avere una mia vita privata e fra queste avere anche una vita spirituale. Non si può avere tutto, sono vite esclusive. Il che non implica smettere di andare a lavorare, non avere una famiglia e altre cose che sono al di fuori del contesto monastico. A parte che anche i monaci lavorano, comunque non implica l'impossibilità di avere una vita laica, ma questa vita deve essere riplasmata sulla base della nostra ricerca spirituale. Il che implica il lavoro è quello che è, nel senso che iniziamo a capire se questo lavoro rientra nei mezzi retti di sussistenza, cioè se sia conforme all'etica, una volta che questo lavoro è conforme all'etica, che quantomeno è legale, allora è il modo con cui inizia a lavorare tutti i giorni che acquista una differenza. È nel rapporto con gli altri, nell'amicizia che uno sviluppa, è nei libri che legge, nei programmi, nel caso che guarda, è il modo con cui li guarda poi, sia per cercare di comprendere meglio quello che sta avvenendo dentro di noi e rivedere un aspetto del Dhamma o se sono semplicemente delle divagazioni, delle distrazioni. Quello che vi sto dicendo all'inizio è stato un po' provocatorio di questa risposta, ma è quello fondamentalmente l'esigenza di non relegare la vostra pratica spirituale a una parte della vostra vita, ma che abbracci la vostra esperienza, facendo delle scelte all'interno della quotidianità, ma soprattutto iniziando a vedere il Dhamma nella quotidianità. Difficile è praticare se la nostra vita è fatta a blocchi, separati e non connessi e se prima viviamo da manager, prima viviamo da manager, poi da una persona che ha un determinato hobby, cos'è non sei un manager, sei una persona che sta praticando il Dhamma in quel lavoro, se poi serve dell'attività fisica riportiamo la presenza mentale in quella attività fisica. Riuscite a capire? Io faccio la parte amministrativa del monastero, ma non è che nel momento che curo la parte di questa amministrativa direzionale, dimentico i principi del Dhamma, continuo ad aderirvi, spero. come rapportarsi con una persona che si arrabbia molto facilmente e ti incolpa spesso? Alternate due modalità, una è quella dell'ascolto, ricevete le frustrazioni di questa persona e l'altra è la modalità di porre dei confini, dei limiti, no, qui no e non siate troppo prevedibili nel momento che adotterete l'una o l'altra modalità, lasciate a quell'altra persona decidere come voi reagirete, in modo che l'altra persona inizi a riflettere e a capire se è conveniente anche per l'altra persona prendersi prima una pausa invece di essere sempre esclusivamente così reattiva e impulsiva. Queste due modalità aiuteranno la persona ovviamente a sentirsi ascoltata, però daranno anche all'altra persona una sensazione chiara che voi non siete uno zerbino, un rifugio delle sue frustrazioni. Nel caso possiamo lavorarci assieme per lavorare queste frustrazioni e trovare un'altra modalità di relazionarsi alla vita ben disponibile, però appunto nonostante il potenziale affetto che avete verso questa persona o anche i ruoli sociali che rivolgete, rendete chiaro che non potete essere usati, ma siete disposti a sostenere, ascoltare e aiutare. Talvolta le persone sono sensibili e anche sufficientemente intelligenti da rimodellare il loro comportamento. Provate in questo modo. Come si affronta la sofferenza solo con il lasciare andare o con la sua raccoglienza? In tantissimi modi, il lasciare andare sarebbe la soluzione più facile in dolore. Senti il sorgere della sofferenza, ricordi che attraverso la presenza mentale siamo consapevoli che c'è la sofferenza, la saggezza abbina subito la sofferenza con un attaccamento e spontaneamente, anziché identificarci con quelle dinamiche, mettiamo in moto il lasciare andare. Ho detto mettiamo in moto il lasciare andare. Talvolta il lasciare andare è immediato, basta un tocco di presenza mentale e c'è subito un movimento del cuore liberatorio. Altre volte no. Il passaggio all'ora successivo è quello dell'accoglienza intesa nell'accettare il fatto che stiamo vivendo quella esperienza. Poi attraverso questa accoglienza si può continuare lavorando con la pazienza, cioè sopportando, tollerando impazientemente quel disagio. Però si può anche iniziare a lavorare in maniera più attiva, a sopportare quel disagio e vedere quando e come giungerà a cessazione. Però si può lavorare anche in maniera più attiva, cioè mettere in moto quelle pensieri, attivare quei pensieri, quelle parole o quelle azioni che aiuteranno a mettere, a vivere in maniera differente questa esperienza. Pensate a una situazione di rancore. La cosa più facile e immediata potrebbe essere quella appunto del senti l'attenzione fisica, emotiva e mentale del rancore, lascia andare. Però suppongo che avete visto, talvolta non funziona così, anzi talvolta non solo c'è rancore, ma c'è rabbia, avversione, qualcosa ancora di più intenso. Da una parte accettiamo che l'esperienza del momento sia questa, appunto toglieriamo il nostro disagio e anche questo stato mentale, ma possiamo per esempio iniziare ad attivare, promuovere stati mentali alternativi che compensano questa dinamica attraverso la benevolenza e questo va a tutire e addirittura a proporci una nuova prospettiva che a confronto, che una volta confrontati fra avversione e benevolenza o gentilezza amorevole, comunque metta, dici ma io sto più bene, ma io sto meglio con meta, con questo stato mentale. Allora in questo caso abbiamo messo in moto un processo, il lasciare andare passa attraverso la coltivazione di uno stato mentale che poi dopo ci porta a lasciare andare. Non necessariamente la pratica sarà subito di metta, può essere che non siamo in grado, però possiamo mettere in moto delle azioni volte verso la gentilezza, anziché avere uno stato mentale, essere gentili, fare un sorriso a una persona, tenere la porta aperta per quella persona, fare un favore in qualche modo a una persona, un essere vivente, possiamo lavorare ancora più a distanza attraverso la generosità, attraverso la disponibilità materiale per ricontattare questo senso di apertura del cuore. C'è tante cose che possiamo fare, possiamo lavorare sui precetti, per dire ok ho avversione verso questa persona, però mi fermo e rispetto i precetti, sia in termini di parola che di azioni. Il lasciare andare è un processo, o meglio è l'apilice di un processo di liberazione. Nel mezzo ci possono essere varie cose, la nostra abilità di sapere dove siamo, mantenere ben presente qual è il fine che vorremmo raggiungere e conoscere quali sono gli abili mezzi, gli insegnamenti del Buddha che ci possono aiutare in questo, fa in modo che noi non siamo mai persi, indipendentemente da quello che sta accadendo. Anche se non c'è un immediato a lasciare andare, sappiamo che stiamo attivando un processo in tal senso. E questo fa in modo che quello smarrimento che spesso si sente nella vita sia in realtà sostituito da un senso di direzione chiaro, puntuale. Abbiamo un'identità soggettiva che ci distingue dagli altri, delle peculiarità, delle doti. Abbiamo anche il negativo delle debolezze e fragilità, che ci rendono punici e diversi. Come si concilia tutto ciò con il discorso del Buddha sulla non esistenza del sé? Grazie. Il Buddha non negava che ci fossero queste differenze. Il Buddha però affermava che tutto questo è inconsistente, è impermanente. Noi pensiamo di poter mettere un punto su quello che teoricamente chiamiamo io, ma la riflessione che ci fa fare il Buddha è ma esiste veramente? C'è un blocco che si può chiamare io? O questo io in realtà è semplicemente una costruzione? È questo che il Buddha intende quando parla di non sé. Non nega che ci sia un'esperienza individuale, ma questa esperienza individuale è continuamente in movimento cambiante. e questo fa sì che la famosa frase io sono fatto così con i miei pregi e i miei difetti sia una frase che ha un valore per uno schioccar di dita. e questo dal punto di vista dell'io è inquietante. Perché dici stiamo su delle sabbie mobili, stiamo su qualcosa di completamente inaffidabile. Però dal punto di vista della presenza mentale che non ha bisogno di definire le caratteristiche individuali come un qualcosa di personale, questo è libertà. Non so se riuscite a capire la differenza. È il fatto che tu non hai bisogno di dire, che noi non abbiamo bisogno di dire io sono fatto così, ma abbiamo la presenza mentale che ci dice quello che sta accadendo. abbiamo la saggezza che ci dà la possibilità di mettere in moto un processo di risveglio. Ecco, questo è quello che a noi serve. E allora uno dice è l'io dove è che c'è un io sostanziale su cui identificarci. Quell'io c'è laddove blocchi questo processo di risveglio e iniziamo a generare un processo di sofferenza. Attaccandoci a quest'idea statica di io che si andrà a scontrare con la realtà perché un'impostazione basata sul sé non resiste alla prova dei fatti. non solo nelle frasi che diciamo io questo non lo farò mai e poi dopo guardiamo la nostra esperienza diciamo l'ho fatto. Non solo in questo modo ma guardate come la mente può oh amico mio e poi e poi l'amico ti guarda e fa e ti vede ingrassato ma che vuoi da me? Ma chi ti conosce? E questo è abbastanza facile da gestire ma ci sono cose ancora più complesse da gestire. Allora ricordatevi sempre non è un quando il Buddha parla di non sé non nega l'esperienza individuale che ci siano delle caratteristiche definiti all'interno di ciascun corpo che poi dopo si relaziona con il mondo esterno. E' semplicemente che questo questa mente questo corpo e questa mente sono inaffidabili sono un continuo cambiamento e allora e allora non conviene impossessarcene perché nel momento che diventeranno inadeguati rispetto alle nostre aspettative o rispetto alle esigenze del mondo altro non accadrà se non un senso di disagio ma se noi non viviamo in questo modo ma noi viviamo con l'ottica di fare dell'esperienza del momento presente un modo per imparare a lasciare andare sempre più capiti che stiamo parlando di un'altra storia è un altro linguaggio completamente è un altro modo di relazionarsi a tutto non è più il vissuto è l'esperienza del momento il vissuto ha bisogno di una richiama la continuità di un io noi invece abbiamo un'esperienza del momento che segue un processo di risveglio non stiamo più parlando in termini di condizioni che vincolano ma di fattori e di qualità che ci aiutano che aiutano a liberare dall'attaccamento scompare quest'idea di io va bene perché la domanda era abbastanza per quanto riguarda monaci che lasciano l'abito e rimane comunque un rapporto un legame oppure non resta più nulla mi riferisco soprattutto alle ultime uscite la potremmo lasciarla più più ambigua rispetto devo leggerle prima le domande in silenzio ma dipende molto dalla persona dipende molto dalla persona uscita fra i monaci che hanno fra gli ex monaci fra i monaci ex novizi ex anagarica cambia molto alcuni rimangono in rapporto con il monastero altri no magari proprio perché sono stati i monaci per un po' ora sono convertiti a qualche altra religione non lo so magari non vi sorprendete se appunto non è nelle ultime uscite che vedi nel senso può passare un po' di tempo per capire se c'è rimasto un legame una gratitudine una riconoscenza un senso di affetto o semplicemente un beneficio ricevuto da questo luogo non si vede nei primi anni perché necessita comunque di un tempo di distacco sono scelte forti lasciare l'abito ora se lasci l'abito dopo aver fatto 6 o 7 mesi di anagarica cioè da postulante è una cosa ma se lasci l'abito dopo 4 o 5 anni non vi sorprendete se passate un periodo tagliando i ponti e poi e poi appunto uno si uno capisce se se questa se questa esperienza era semplicemente stata una cosa temporanea e un capitolo definitivamente chiuso oppure come anche capita che vediamo persone dopo anni anni che continuano a a venire qui o se non vengono qui ma ci rimane una connessione però è giusto così appena lasci l'abito non avrebbe senso se dopo qualche mese ritorni sarebbe troppo doloroso sì si può considerare l'ultimo istante della propria vita come fondamentale per una buona rinascita mi è capitato di vedere persone morenti che poco prima del trapasso erano agitatissime altre serene in pace sì l'ultimo istante della vita se non è ben definito uso spesso questo termine senso di direzione se non abbiamo ben definito un senso di direzione durante la vita l'ultimo istante è un momento prezioso dove rischi di di giocarti l'impostazione della della prossima per chi crede nelle rinascite se il senso di direzione è stato ripeto sempre che se il senso di direzione è stato ben definito se il nostro cuore ha un rifugio chiaro e preciso è è è formato ad andare da quella parte a restare in quelle dinamiche però se il nostro cuore è piuttosto ballerino allora sarebbe opportuno rendersi conto di quanto possa essere prezioso l'ultimo istante perché potrebbe essere quello che dà l'imprinting per la per la rinascita successiva non significa che tutto quello che abbiamo fatto verrà perso nell'ultimo istante perché nulla viene perso è il kamma ce lo portiamo dietro però insomma potrebbe essere decisivo vincolante per la rinascita e poi quella rinascita avere usufruire a proprio vantaggio svantaggio del kamma accumulato fatemi vedere quante domande semmai riprendiamo questa domanda facciamo la similitudine dell'agenzia di viaggio semmai alla fine riprendiamo questa da dove ora lasciamo quella similitudine dell'agenzia di viaggio però prima nel caso vediamo di terminare le domande mi lascio in sospeso come mai a trasmettere vari insegnamenti religiosi sono di più gli uomini delle donne ora in un monastero maschile è comune che ci siano i monaci che trasmettono l'insegnamento ma io ho avuto anche insegnanti di meditazione donne anzi prima di giungere in monastero due erano donne e uno era un uomo no non lo so non ho fatto la statistica devo essere sincero comunque se reputate che ci debba essere più spazio approfondite la vostra comprensione e se qualcuno voi donne approfondite la comprensione una volta approfondita se ci sono persone che hanno che sentite che potrebbero beneficiare della vostra presenza del vostro aiuto condividete io non so che idea ci sia dell'insegnante però però talvolta l'insegnante non è questo da dietro al microfono questa è una minima parte di quello che viene fatto questo è quello che andrà su youtube e qui sembra tutto facile è dopo nell'amicizia è un'insegnante spirituale e nei colloqui privati personali che non chiami neanche più colloqui ma sono conversazioni fra persone che stanno portando avanti un percorso spirituale di cui in quel momento si presume che una persona abbia maggiore esperienza è lì che cambi la vita delle persone quello che stiamo facendo ora magari lascia delle 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 tracce vi da delle delle indicazioni ma ormai è chiaro almeno per me bisogna scegliere che cosa vogliamo fare se vogliamo essere monaci da microfono i nostri discepoli saranno i like e i followers se vogliamo essere monaci che fanno corsi da dieci giorni i nostri discepoli saranno quelli nel corso se poi vogliamo selezionare mettiamo anche dei paletti al corso dicendo prima devi fare questo e quest'altro prima devi studiare però se vogliamo veramente incidere sulla vita delle persone dimenticando questa terminologia anche di discepoli maestri nella mia esperienza è nella situazione informale che si forma che si fa e che si può veramente aiutare le persone continuo con entusiasmo con il microfono ma ma se mi dite quanti di voi potranno essere aiutati con il microfono veramente io mi sono dato questo obiettivo nella vita che potrebbe sembrare reduttivo ma in realtà inizio a pensare che sia sempre più 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 vero per me per me è ovvio continuare con tutte con tutta con tutto me stesso a provare a capire sempre meglio l'insegnamento del Buddha possibilmente a raggiungere o avvicinarmi sempre più al risveglio ma ecco se se alla fine di questa vita avessi veramente aiutato ma veramente aiutato sette persone penso che mi sentirei un uomo di successo spirituale e tu mi dirai solo sette è difficilissimo aiutare le persone quindi non so voi come la vediate in termini di insegnanti ma se avete aiutato io penso che una donna abbia grosse possibilità di aiutare almeno sette persone qual è il ruolo dell'attività onirica nel buddismo teravada no non enfatizziamo molto i sogni le interpretazioni dei sogni siamo piuttosto li mettiamo da parte via via ci sono persone che me le raccontano e sento che per loro hanno un valore però nello stesso tempo nella nostra tradizione almeno come l'abbiamo impostata non diamo troppo peso voi considerate che l'attività onirica si sviluppa quando la presenza mentale è veramente marginale è fragile conseguentemente non vi stupite troppo se la mente boom può esplodere può esplodere e andare in situazioni imprevedibili e atipiche puntando molto sulla presenza mentale e non diamo troppo peso quando la presenza mentale è debole perché quel significato per noi non ha troppa importanza se poi mi dite ma allora tutto la verità è che alcuni sogni in effetti sono potenzialmente importanti il problema è che non è facile distinguere fra quelli che sono veramente importanti e quelli che invece sono semplicemente l'attività della mente soprattutto in un contesto per esempio come il nostro o come il vostro se siete dei praticanti che hanno una certa continuità nella quotidianità per cui la mente vive dentro dei confini di solitamente e nel momento che dorme è la consapevolezza più fragile appunto esonda può esondare non sempre esonda può esondare alcuni comunque alcuni di questi sogni possono essere importanti ma siccome è difficile distinguere fra quelli che non lo sono e quelli che lo sono cerchiamo di non enfatizzare troppo in ogni caso l'attività onirica e se proprio dovete enfatizzarla perché ci sono anche degli insegnamenti dei testi dove in qualche modo si si prende in considerazione ricordatevi il segreto è riportare tutto a insegnamento del Buddha nel senso non prenderla come un qualcosa che riguardi il sé ma un qualcosa che riguarda il 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 damma questo è però non mi vengono non mi vengono degli esempi anche perché molto spesso ormai quando inizia l'attività onirica mi sveglio però ecco i visioni sogni ci possono essere ma li mettiamo da parte ma qualora proprio abbiamo interesse dobbiamo chiederci cosa significa in termini di quattro nobili verità ecco questo è importante la pratica e l'approfondimento del buddismo ha portato a me una notevole sensibilità tanto da non riuscire quasi più a ascoltare e seguire i programmi televisivi bene inoltre ho sviluppato un enorme rispetto verso forme di vita che prima consideravo pericolose vi per serpenti eccetera se potevo le facevo fuori oggi provo per loro compassione e anche affetto è normale sì bello non so chi sia questa persona ma i miei complimenti sia per un passaggio che sembra facile ma non è poi così scontato quello di di capire quanto può influenzare quell'apparecchietto rettangolare che è presente nelle case nell'abitazione di tantissime persone e poi sì gli animali tutti indipendentemente da da quelli che sono più carini a quelli che invece non sono anche quelli che magari non sono comodissimi però anche metta benevolenza per anche per questi animali non a caso qualora vi trovaste in situazioni dove sentite una certa paura una certa ansia proprio perché sentite che ci potrebbero essere degli animali che non sono il classico pet animali da compagnia tutti i monaci della foresta sanno che la protezione è quella di praticare la benevolenza metta c'è questa famosa battuta del monaco tutti quando vai in foresta quando vai in bosco tutti dicono tu pratica metta la benevolenza e nel caso fai l'incontro c'è questa frase fatta se fra me e te non c'è un camma un debito aperto che tu possa andare in pace e io posso andare in pace quindi metta e poi nel caso di incontro l'ultima carta se non abbiamo storie risolte fra di noi che ognuno vada in pace per la sua strada questo è questo è l'insegnamento classico e la domanda è sì ma funziona la risposta è tutti i monaci che sono tornati dalla foresta per loro ha funzionato comunque questo è l'approccio tradizionale sembra funzionare so che come monastero avevate rapporti con un caccere a Spoleto oggi esiste ancora una vostra frequentazione e supporto per i detenuti mi sembra che se ne occupava di Spoleto andava a Cianciapallo mi sembra che con il covid ci sono state delle difficoltà no con il covid sicuramente ci sono state le difficoltà e poi forse non hanno non sono sicuro se abbiano ripreso comunque noi abbiamo fatto noi a novembre dell'anno scorso andammo in due carceri milanesi due o tre sono in mentira due due carceri milanesi a Monza e a Bollati non so se in autunno andremo a Napoli vediamo c'era una mezza idea ho scritto anche un articolo che ci ripenso sul magazine dell'unione bulldista italiana di che mese era quella non mi ricordo su che era era pagina 57 forse ricordo la pagina mi ricordo la pagina 57 fumo colpiti fumo colpiti ho ricevuto anche qualche lettera poi ora non mi ha riscritto più dopo quell'esperienza qualcosa di buono penso che si possa veramente fare ma un po' come diceva la domanda l'aspetto fondamentale è la continuità e non è escluso che non che i monaci possano fare da apripista e da sostegno ma io in questo caso vedrei meglio una una cooperazione fra monaco e laico e laici nel senso che i monaci sono pochi ora tutto non si può fare non riusciamo però ecco il monaco che funziona un po' da apripista o da consolidatore per poi dopo lasciare ai laici dare una continuità settimanale anche perché poi dopo è più facile andare per le persone che vivono nei pressi di questi carceri ecco secondo me questa sarebbe una struttura più più sostenibile un approccio più sostenibile perché una visita occasionale fa l'evento ma a noi non ci serve l'evento a noi ci serve di costruire una fiducia reciproca e di dare un'alternativa di vita alle persone per quando sono in carcere e non è facile quando sono in carcere e magari per quando usciranno che in quel caso è più facile al monastero credo siano transitate persone con complessività severe e di difficile gestione come le avete gestite se ci sono stati casi del genere hai aneddoti storie da raccontare quante notti ho perso in sonne lo capite il damma è questo cioè sì è venuta un religioso è una religiosa ci ha detto che voleva tradurre ha detto la cianciana pado voleva tradurre il satipatana sutta il discorso sulla presenza mentale cianciana pado ha fatto c'è già la versione di Anna Laio c'è la versione di Giuliano Giustarini è pieno di traduzioni di alzati patana sutta il problema è come il problema è la vita di tutti i giorni il problema il problema è come mantenere un equilibrio mentale in una follia sempre più dilagante e come unico vero rifugio avere il damma e forse vedere persone che forse l'esperienza più drammatica per me è stato il cambiamento di una persona che da un giorno all'altro proprio ebbe uno scompezzo psicotico non la riconoscevo più quella persona era i primi anni per me e mi resi conto di quanto non avessi compreso nulla perché lei mi dava segnali che stava che stava uscendo fuori di testa ma io non non li avevo colti in giro di tre o quattro giorni era una persona completamente cambiata ovviamente ci fa riconoscere anche i nostri limiti ci fa capire quali sono le nostre competenze quali non sono le nostre competenze proprio che non è per lavarsi nelle mani è proprio che ci sono dei settori che non abbiamo le conoscenze ed è sempre difficile capire quando puoi aiutare e quando invece è al di fuori delle tue delle nostre capacità questo veramente è una scelta difficile c'è una talvolta diciamo no 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 basta con le complicazioni ma potremmo fare qualcosa qualche volta invece uno si immagina di poter fare qualcosa quando in realtà non può fare nulla ci sono stato tantissime volte lì al centro di queste decisioni e qualcuno l'ho presa bene qualcuna qualcuna forse qualcuna no fermiamoci qui quanto è probabile la reincarnazione in un animale è sempre un passo indietro allora ora noi qui diamo per scontato che esista la rinascita quindi pensiamo come in accordo a questa credenza che poi dopo come monaci buddhisti fa parte della nostra confessione però è forse uno dei punti più oscuri per le persone sì un animale non usiamo questo termine nel teravada usiamo il termine rinascita però sì un animale rinasce è un essere vivente dotato di di intenzionalità quindi la sua mente si muove attraverso una intenzionalità e conseguentemente è dentro al ciclo delle rinascite come gli esseri umani la rinascita animale è una è una di quelle possibili per cui anche gli esseri umani possono essere regredire andare a una nascita animale e viceversa l'animale può andare verso una rinascita umana ma iniziate a osservare se avete degli animali in casa noterete che ci sono degli animali che sempre più si umanizzano ma non acquistano proprio dinamiche umane perché se vivi con gli umani può essere facile adottare una modalità di esistenza tipica da umani sul divano a guardare la televisione tre pasti al giorno e una vacanzina fuori fare una passeggiata sì ci sono solitamente si dice che ovviamente conquistarsi una rinascita umana è complesso quindi più scivoli in basso e gli animali sono considerati un livello inferiore all'essere umano più scivoli in basso e più è difficile ritornare su ecco perché dovremmo fare attenzione noi quali esseri umani a mantenere un livello di etica che ci che ci che ci protegge e tutela dal fatto di avere una rinascita inferiore perché quella umana appunto è considerata l'animale è considerata una rinascita inferiore e se da una parte possiamo vedere come gli animali che stanno vicino a noi tendono a umanizzarsi hanno questa possibilità perlomeno è anche opportuno notare che noi possiamo diventare animali e riconoscere dei comportamenti istintuali privi di una vera e propria consapevolezza gli animali trattiamoli bene gli animali perché perché la nostra compassione verso di loro sapendo che anche loro hanno fatto delle scelte la loro condizione dipende da quelle scelte se possiamo dargli una mano gli diamo una mano e nel samsara si gira si gira ma stiamo attenti a noi come umani a non andare verso i piani di esistenza inferiori perché è più difficile risalire non impossibile ma è più difficile prima che incontrassi il buddismo pensavo che le sofferenze della vittima erano di gran lunga superiore a quelle dei carnefici oggi su questo pensiero mi sto ricredendo molto e nel mettermi nei panni del carnefice penso alla sofferenza che dovrà affrontare non solo che dovrà affrontare ma che sta affrontando ovviamente non c'è questo riconoscimento nel momento che uno è carnefice anche perché magari si sente autorizzato a farlo può essere inebriato dal potere dalle ideologie però già in quel momento sta abbondantemente soffrendo un carnefice si sono frasi sono frasi forti ma 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 insomma immagino che capite che possiate facilmente capire un carnefice sarà la prossima vittima però la vittima è vittima del carnefice il carnefice sarà vittima di se stesso è così quando siamo qui tutti assieme a parlare di Dham e di spiritualità quello che accade nel mondo sembra così assurdo ma come è possibile ricordiamocene di questi momenti perché può essere che fuori da questo contesto siamo noi quelli che potrebbero perdere la la testa quindi ecco in questi momenti che dici ma così ovvio così spontaneo consolidiamoli diamogli profondità in modo tale che nei momenti in cui ci potremmo trovare di fronte a delle scelte questa esperienza possa ritornare perché leggendo questa domanda facendo semplicemente due considerazioni poi pensi a quello che sta succedendo nella vita di tutti i giorni e ti dici è follia è follia e pretendono anche che dobbiamo dare ragione a a qualcuno perché la domanda non è neanche cosa dovremmo fare ma a chi dai ragione a lui o a me eh carina questa domanda così in verticale la paura che provano persone aggressive o situazioni pericolose non consente di lasciare andare quale pratica può aiutare allora e solitamente contro la paura appunto noi ci ci tendiamo enfatizziamo la pratica della benevolenza del cuore aperto la pratica della benevolenza del cuore aperto fa in modo che si rilassino queste tensioni fisiche e queste contratture emotive e che questi stati mentali lasciano spazio alla a un senso di agio interiore per relazionarsi meglio a queste storie ma c'è anche un'altra qualità che aiuta molto in queste situazioni ed è la nostra avere fiducia confidenza nella nostra abilità nel lasciare andare alla fine in una situazione conflittuale uso un termine inappropriato ma in un certo senso inappropriato ma anche in questo caso può farvi capire in una situazione conflittuale il perdente è quello che non sa lasciare andare ora dici ma non è così che stai dicendo perché perché se noi abbiamo l'abilità di lasciare andare siamo abbiamo strategicamente siamo in una situazione di forza qualsiasi cosa accade tu lascia andare mentre le nostre fragilità sono nei nostri attaccamenti convenzionalmente sembra che il mondo giri in maniera differente però però laddove c'è un attaccamento c'è un potenziale di sofferenza se noi siamo in grado di lasciare andare quella quell'attaccamento non c'è più dove colpire riuscite a capirlo questo e paralossalmente quelle che spesso le persone considerano essere punti di forza sono la loro potenziale debolezza perché non penseranno mai di poter che la loro fragilità è lì ma in realtà è lì una persona che si presenta dicendo tu non sai chi sono io ti sta già dicendo dove soffrirà noi non è che dobbiamo farla soffrire però però ci sta fornendo la mappatura della di quale strategia adottare per farlo sbilanciare se noi siamo quel tipo di persona che invece non si presenta come lei non sai tu non sai chi sono io ma come potrebbe essere la frase ci potrebbero essere tante frasi comunque qualcosa io non sono nessuno non è funzionale perché stai dicendo pur sempre chi sei ma una frase che non lascia spazio a una definizione finita di noi ho anche appunto una battuta amoristica del tipo vedate che sai chi sei perché io ancora non ho mica ben capito comunque al di là del gioco di questa battuta forse avete capito le paure nascono da quando dobbiamo difendere estremamente qualcosa e attribuiamo l'altro un'enorme forza in realtà in realtà se riplasmiamo la nostra il nostro atteggiamento di vita portandolo sempre più orientato verso il lasciare andare e che ti dicono se non fai questo io non ti do questo e io ne faccio a meno se se non fai questo io con te non ci parlo più mi spiace dire che resta in silenzio cioè non ci sono troppi punti di appoggio e laddove noi mettiamo il nostro la nostra identificazione lì c'è la nostra fragilità questa è una cosa che uno non ci pensa suppone che le nostre fragilità siano sempre laddove in maniera convenzionale ci vengono mostrate ci viene mostrata la nostra inadeguatezza che si in un certo senso può essere vero ma quello è palese per la gran parte delle persone ma le nostre vere fragilità sono dove noi ci arrocchiamo perché come abbiamo detto precedentemente laddove perché non è possibile arroccarsi in ogni caso si sgritolerà e per sua natura si sgritolerà e con una mente calma e una certa abilità strategica volendo si può mettere in moto il processo più accelerato di sgritolazione e questo non necessariamente per fare del male che sarebbe cattivo camma ma per aiutare la persona ma è necessario farlo sicuri di farlo per il bene di quella persona altrimenti prima bisogna aiutarlo aiutarlo ad andare a cercare di andare a dicompensare quelle fragilità ovvie per poi rimettere in discussione i punti di forza di fare a cercare di fare Grazie a tutti